Siamo a Trino, Trino Vercellese, un grosso centro del Piemonte Medioevale. Trino nel 200 e nel 300 era una città molto importante in Piemonte e in Europa. Di qui partivano i Templari per andare a fare le crociate. Trino era il centro del potere di una dinastia dei paleologi che in Piemonte contava molto nel 200 e nel 300. In quegli anni Trino era più importante di Torino. La sua storia è andata avanti ancora per molto tempo, per molti secoli. Durante il 400 a Trino è stata fatta la prima opera stampa in Italia. Fino ancora all'800 quando il giovane Cavour aveva delle importanti proprietà agricole in questa zona e sperimentava coltivazione del riso, innovazioni agricole importanti. Poi nel tempo le vie di comunicazione principali sono cresciute in altre zone, verso Torino-Vercelli, Torino-Vercelli-Novara, e quindi Trino lentamente ha cominciato a perdere di centralità e di importanza nel Piemonte. In questa situazione, nel 2006, negli anni delle Olimpiadi, la Regione Piemonte ha deciso di investire intorno al momento del rilancio del Piemonte per le Olimpiadi del 2006 alcuni fondi per ridisegnare, ripensare il centro storico di Trino. Noi quindi abbiamo vinto un concorso con alcuni colleghi locali e con iStudio per ridisegnare la storia del centro di Trino, ma con l'intenzione di inserire alcuni elementi di contemporaneità. Abbiamo quindi analizzato il tessuto storico mediovale e barocco della città, abbiamo analizzato le parcelle, abbiamo analizzato gli spazi pubblici, abbiamo studiato gli assi principali di impianto romano e soprattutto abbiamo cercato all'interno degli isolati del tessuto trinese degli spazi potenziali che potessero diventare percorsi pubblici o aree pubbliche pedonali, all'interno degli assi stradali col traffico automobilistico. Quindi per individuare una rete di percorsi per i trinesi per spostarsi all'interno della città scoprendo aree nuove e vivendo passaggi e scoprendo anche dei retri, delle zone di chiesa, delle arcate, degli angoli di cittadina e di città storica anche dimenticati o poco utilizzati. Abbiamo quindi proposto un progetto generale, un progetto preliminare generale piuttosto importante per un importo di quasi 20 milioni di euro. Dopodiché abbiamo selezionato in seconda fase una parte specifica, uno stralcio, un lotto da 7 milioni di euro dove abbiamo realizzato tutta una serie di opere. Principalmente sono state opere di ridisegno delle pavimentazioni, sia stradali sia di questi percorsi interni all'isolati, dove abbiamo cercato proprio col disegno della strada, della pavimentazione, di portare l'attenzione dei cittadini in percorsi interni, incontrando nuovi spazi, nuove aree, come quella del teatro, come quella del campo sportivo della parrocchia, come quella della corte del cosiddetto R1-R2 che poi è diventato un edificio per servizi. Successivamente abbiamo ancora fatto un altro stralcio di questo preliminare, rifacendo anche la piazza a Mazzini. Quindi l'insieme di tutte queste opere rappresenta un profondo rinnovamento di un centro storico antico, importante, con una grande tradizione, un grande percorso storico, nel quale mancava un po' un ridisegno, un ritrovare un'anima, una struttura di percorsi. In questo ridisegno del centro storico trinese abbiamo anche cercato di introdurre alcuni elementi di architettura contemporanea. In origine il progetto preliminare, il progetto iniziale, prevedeva di inserire un centro civico in questa piazza, piazza Garibaldi, un'architettura contemporanea importante, con una facciata pieghettata, un insieme di elementi di vetro riflettente e di acciaio inox altamente riflettente, a due piani, che facesse da fondale quasi kaleidoscopico, riflettendo la parte in mattoni, il gioco di facciata storica del castello dei paleologi che sta qui accanto e della contemporaneità dell'edificio nuovo, una riflessione frazionata sull'acciaio e sul vetro che avrebbe potuto fare un inserimento di contemporaneo estremamente interessante e innovativo in un centro storico antico con una presenza forte di un edificio medievale. La sovrintendenza però nel dialogo che abbiamo avviato ha preferito evitare questo inserimento così forte e ha deviato la nostra attenzione all'inserimento di contemporaneo solo all'intervento di ampliamento del teatro civico che sta sì nel centro storico ma in una corte interna, in uno spazio più defilato rispetto agli assi principali della città storica.